Una conferenza stampa stamane all'ASL per presentare il progetto alimentazione Good Flat che si inserisce nel progetto dell'ASL Crescere Felix, ideato e promosso già dall'anno scorso dalla responsabile dottoressa Zambetti. Il responsabile dell'associazione multicanale che ha presentato il progetto Good Flat è apparso grandemente soddisfatto per l'accettata collaborazione da parte dell'ASL del progetto proposto dalla sua associazione che prevede interventi di pizzeria e ristoranti rinomati, di interventi di psicologi, non a caso la presenza della dottoressa Marcia Lamberti, di sociologi e di volontari che tengono particolarmente insieme al responsabile dell'associazione avvocato Luca Auletta alla buona riuscita del progetto Good Flat, e cioè Good Food, Good Life e Good Time. Infatti Good Flat non è altro che l'acronimo di questi tre momenti, che vedrà la sua conclusione a maggio, forse il giorno 25, nell'attuazione del Villaggio della Salute, che vedrà la presenza di bambini, fanciulli e ragazzi che percorreranno un iter educativo all'interno del loro ambiente scolastico e familiare. Un progetto che va in continuità, che è quello che la nostra ASL fa da anni sul territorio dell'agronocerino e non solo, il progetto Crescere Felix. Quindi questo si integra con le attività che noi già abbiamo in programma e devo dire un bel momento di sinergia tra terzo settore e azienda sanitaria. Le risposte sono state positive, almeno per Crescere Felix? Per Crescere Felix sicuramente sì, abbiamo tante scuole che ogni anno aderiscono alle nostre iniziative, tanti genitori, devo dire la verità, particolarmente i genitori delle scuole primarie, scuole medie. Comunque devo dire che c'è una maggiore sensibilizzazione e attenzione, quindi rispondono bene. Abbiamo bisogno anche noi di essere supportati, quindi ben vengano queste iniziative collaterali che si integrano in maniera sinergica con quello che già facciamo. E' intervenuto alla conferenza anche il dottore Osvaldo D'Amico che ha ribadito l'importanza del gioco nella educazione alla buona salute e alla buona alimentazione. Da qualcosa è stata condivisa dagli esperti e dei partecipanti al progetto. Ed allora tutti al lavoro e appuntamento a maggio. Faremo dei laboratori sulla pizza e sulla pasta. Insomma abbiamo attivato una serie di attori. Una catena, vedete? Esatto, una catena. Più che lo stile alimentare bisognerebbe andare a lavorare sullo stile di vita. E quest'anno abbiamo inteso, per la prima volta abbiamo inteso, aprirlo nel pomeriggio anche ai genitori, perché parliamo tanto a questi ragazzi di sana e corretta alimentazione, ma poi dovremmo educare. E' aperto anche ai genitori, ci sarà proprio a fine della giornata un talk dove i genitori potranno interagire con medici nutrizionisti anche dell'ASR, anche del Dipartimento di Sana e Corretta Alimentazione per chiedere dei consigli come operare al meglio per i propri figli.